Dal Vangelo secondo Luca In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò sei suoi discepoli nei scelsi dodici, al quale diede anche il nome di Apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Simone del Tuzzelota, Giuda, figlio di Giacomo e Giuda Scariotta che divenne il traditore. Discesi con loro si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla dei suoi discepoli, una gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed erano guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo perché de lui usciva una forza che guariva tutti. Si è rodato Gesù Cristo, sempre si è rodato, eccoci giunti, giovedì 28 ottobre 2021. Oggi festeggiamo i Santi Simone e Giuda Apostoli. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è tratto dal capitolo sesto, versetti 12-16 di San Luca. Da Gesù usciva una forza, una forza che guariva tutti. Perché? Sicuramente per tante ragioni. La prima fra tutte è che è il figlio di Dio. La seconda mi sembra che ce la scriva San Luca. Gesù se ne andò sul monte a pregare, passò tutta la notte pregando Dio. Per quale motivo dovremmo imparare a fare un pochino di preghiera notturna? Perché l'ha fatta Gesù? Noi spesse volte diciamo bisogna fare questo perché lo dice il Vangelo, bisogna fare quell'altro perché lo dice il Vangelo, bisogna perdonare perché lo dice il Vangelo, bisogna, eh, diciamo tante cose, no? Perché le dice il Vangelo. oppure perché le ha fatte Gesù. Però non si sente così di frequente dire che dobbiamo imparare a fare un po' di preghiera notturna perché l'ha fatta Gesù. e nei Vangeli ritorna diverse volte questo riferimento alla preghiera notturna di Gesù. Di Gesù che va sul monte da solo a pregare di notte o che si sveglia prestissimo al mattino per andare a pregare. Ecco, mi sembra che ci possa fare solo un gran bene. E continuiamo per questa ragione la meditazione del testo della lezione divina del Santo Padre Benedetto XVI del 10 marzo 2011 nell'incontro con i parroci della diocese di Roma. Scrive il Papa abbiamo parlato di umiltà di questa volontà di Dio che può essere dura. Alla fine il titolo di tutto il Vangelo della Grazia di Dio è Vangelo è Buona Notizia che Dio ci conosce che Dio mi ama e che il Vangelo è la volontà ultima di Dio e grazie. Ricordiamoci che la corsa del Vangelo comincia a nazare nella stanza di Maria con la parola Ave Maria ma in greco è caire che carito mene gioisci perché stai nella grazia e questa parola rimane il filo conduttore. Il Vangelo è invito alla gioia perché siamo nella grazia e l'ultima parola di Dio è la grazia. La volontà di Dio dice il Papa può essere dura io non voglio certamente correggere il Papa ci mancherebbe aggiungere chissà che cosa quello che dice lui mi si consenta solo di dire che la volontà di Dio non è che può essere dura come se alle volte potesse essere morbida diciamo così. Io credo che l'esperienza di tutti noi è quella di dire che la volontà di Dio è sempre molto impegnativa. se guardiamo l'esperienza dei Santi mi sembra di vedere che è durissima perché è una volontà che vuole farti vivere nella grazia e per questo ti purifica è dura vivere nella volontà di Dio ed è per questo che io credo tanto in quello che continuamente vi ripeto del fare rete dell'essere uniti ci credo molto in questo perché vedete oggi tocca a me domani toccherà a te ma tocca a tutti di dover fare se siamo cristiani la volontà di Dio essere uniti cosa vuol dire? vuol dire che io ti sosterrò quando toccherà a te fare la volontà di Dio in modo forte e come fai a non accorgerti che una persona sta facendo la volontà di Dio in modo forte no? pensate a una mamma a un papà che vivono una situazione matrimoniale difficile e continuano a rimanere fedeli ma ce ne sono tantissimi di esempi l'esserci essere lì accanto a una mamma che accetta una gravidanza difficile a una mamma che a una mamma e un papà che accettano una gravidanza magari non cercata non voluta inaspettata una persona che deve affrontare una malattia importante una persona che deve sostenere una scelta importante una persona che per scegliere Gesù deve aver rinunciato a tante cose magari alla carriera magari alla stima magari alle persone che ama di più e via di seguito siamo tutti intelligenti quindi senza che gli altri facciano chissà quale confessione lo capiamo da soli quando abbiamo davanti una persona che in quel momento sta vivendo il suo calvario ecco io credo che la cosa più bella che possiamo fare è dire ci sono io ci sono ti aiuto e divento chi ecco mi dico a me Simone di Cirena non è che mi piaccia tantissimo cioè nel senso che ha fatto sicuramente tanto per il Signore però per certi versi non mi piace molto che viene scelto per essere colui che porta la croce ma forse non è nei suoi desideri mi piace mi piace moltissimo Santa Veronica mi piace forse ancora di più perché Santa Veronica guardate non fa niente di grandioso per il Signore di spettacolare no pregetti versi fa quasi un gesto piccolissimo asciugargli il volto ma che segno di gratitudine lascia Gesù bellissimo immagine del suo volto sul panno noi possiamo diventare la Veronica nella vita di tante persone magari non siamo neanche in grado di portare la croce di queste persone perché è troppo pesante per noi però siamo in grado di togliere una persona dall'isolamento basta una telefonata basta un andare a trovare basta un dire di al tuo marito di stare tranquillo domani che ti porto io a fare la chimioterapia stasera fatele queste cose guardate voi non immaginate che bene fanno voi non immaginate stasera diciamola così in un altro modo quanto tempo è che non porti più fuori a cena tua moglie facciamo così stasera sto io a casa con i bambini voi andate fuori a cena fate una bella cena insieme sapete alle volte quando mi guardo allo specchio dico sono un cristiano sono un criceto io non voglio vivere la vita di un criceto non voglio vivere la vita di un criceto mi ha avuto un criceto ecco perché lo dico quando ero ragazzo ebbe un criceto e lo guardavo questa bestiola la guardavo già da bambino e dicevo ma ma che vita è quella di correre dentro una ruota chiuso in una gabbia ma ma dove vai dovevate vedere quanto correva sto criceto era impressionante una cosa impressionante aveva di qui muscoli che quando si muoveva sembrava un pitbull cioè una cosa in più diciamo una bestilina così piccola ma quanto corre poi dormiva poi mangiava poi faceva i suoi bisogni e poi correva nella ruota ma non si muoveva di una virgola di un millimetro era sempre lì noi abbiamo le nostre cose da fare capite devo fare questo devo fare quello devo fare la spesa devo prendere le robe devo portare su quello devo portare su quell'altro devo andare di qui devo andare di là e arriva sera cosa abbiamo fatto per aiutare gli altri a portare la loro volontà di Dio perché noi non siamo solamente cose da gestire o o o o o stomaci da riempire no e che cosa ho fatto per portare la volontà di Dio per aiutare te a portare la volontà di Dio può essere guardate banalmente quel giorno portare fuori quella persona a mangiare un gelato e ripeto con quella delicatezza e quella grazia che non fa capire che voi state facendo i buoni samaritani ma quasi il contrario no che siete voi ad averne bisogno perché così non umiliamo nessuno ah guarda ti ho sempre in mente sì però sono tre anni che non mi chiami capite e via di seguito ve lo dico sempre anche inerente ai nostri sacerdoti non lasciateli soli non lasciateli soli non lasciateli soli fatevi presenti quanti sacerdoti soli che ci sono perché eppure quando abbiamo bisogno di confessarci quando abbiamo bisogno di una parola quando abbiamo bisogno di sacramenti quando abbiamo bisogno ci sono soprattutto per questi che ci sono come dice la scrittura che per chi predica ci va il doppio dell'onore perché annuncia la parola di Dio perché ha questo compito quindi che uno dice ma cos'è che devo fare ma guardate sono cose semplici anche qui è domenica fai le adesso arriva l'inverno arriva il fresco arriva la domenica fai le lasagne fai non lo so che cosa ma invitalo diglielo padre finite le messe se vuole venire tanto se c'è posto per 5 c'è posto anche per 6 non può venire non è fargliene una porzione portagliela già vi ho fatto questi esempi no aiutateli a tenere in ordine la casa a tenere offritevi per una mano per per stirare per ce ne sono di cose guardate aiutiamo a portare la volontà di Dio mi fermo qui perché quello che viene dopo è molto importante perché il Papa dice poi viene ora il brano sul martirio imminente ecco lo faccio la prossima volta perché mi sembra un testo molto denso che merita un'attenzione particolare benedicat vos sonnipotens deus pater et figlius spiritus santus amen facciamo tanto riferimento a San Giuda Taddeo un grandissimo santo andate a leggere l'importanza di questo santo delle cause impossibili ecco chiediamo a lui un grande aiuto Dio ci benedica e la Vergine ci protegga amen se lo ha dato Gesù Cristo sempre se lo ha dato